Siamo con la dottoressa Laura Menchini, dirigente medico del servizio di radiologia e bi-imaging dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Perché in Italia un paese all'avanguardia con un sistema sanitario che comunque ha punte di eccellenza e a volte è difficile diagnosticare la tubercolosi? Beh, sicuramente perché è una patologia che ha avuto una recrudescenza negli ultimi anni proprio per l'immunosoppressione aumentata per i flussi migratori e quindi la diagnosi è difficile per la sintomatologia spesso a specifica e anche per i quadri che riguardano i radiologi che non sono spesso patognomonici e caratteristici di tubercolosi. Ecco, andiamo nello specifico per informare la gente. Non si ha trasmissione dagli animali all'uomo oppure da uomo a uomo? Beh, la trasmissione da uomo a uomo è possibile proprio nelle forme polmonarie scavate e quindi nella tubercolosi contagiosa. Quindi è possibile una infezione da contatto diretto da uomo a uomo. È vero che non tutte le persone contagiate si ammalano e quindi il batterio va in uno stato di latenza? Certo, alcune fasce di pazienti che vengono a contatto col micobatterio possono indovarlo, cullarlo fra virgolette nel loro corpo senza che si manifesti la malattia e quindi in quel caso si parla di tubercolosi latente. Ecco, lei ha parlato di fasce di pazienti. Quali sono quelle più soggette a contrarre la tubercolosi? Le fasce di pazienti più a rischio di contrarre dalla infezione la malattia in fase attiva e la malattia nella sua massima espressione sono i bambini al di sotto dei due anni, gli immunocompromessi, quindi anche i pazienti oncologici, i pazienti defedati, i pazienti con patologie croniche e quindi con debilitazione del fisico. Con ultima domanda, l'approccio multidisciplinare è molto importante come uno schema di approccio, di metodo per il lavoro, per affrontare e combattere una patologia come la tubercolosi. Ecco, quanto è importante nel caso di TBC? Sicuramente è fondamentale la collaborazione fra il clinico che ci indirizza, noi radiologi, a avere un occhio più clinico e più specifico per escludere o confermare la presenza di tubercolosi radiologicamente parlando. È importante l'integrazione con i test di laboratorio e tutto insieme fa una parte della diagnosi di tubercolosi che da solo ogni singola componente non riuscirebbe sicuramente a essere sufficiente ed esaustiva.